La lettrice è donna, donna benessere. Benessere per voi è importante e se sì, come lo trattate nelle testate? Per noi il benessere è importantissimo, tanto che oltre ad avere una sezione all'interno del giornale di Donna Moderna che si chiama Informa, abbiamo anche una brand extension intera che si chiama Wellness Benessere. Il nostro punto di vista è basta con il concetto di benessere inteso come dieta oppure probabilmente finalizzato all'estetica, ma benessere è proprio come vivere bene dentro il proprio corpo, quindi l'importanza del corpo come quell'involucro che poi ti fa stare bene e ti fa essere felice. E questo è il taglio che diamo in pratica sia nella brand extension che nel giornale. Siamo ormai quasi in bella stagione. Il tema del benessere è una cosa legata alla stagione estiva e quindi a rimettersi in forma, e quindi ha anche le diete, ma anche l'attività fisica e l'alimentazione, oppure il benessere è una cosa a cui dobbiamo attendere e per il quale dobbiamo lavorare durante tutto l'anno? E secondo noi, secondo Donna Moderna, tutto l'anno, perché il benessere è concettualmente uno stile di vita e ogni stagione, anzi, ha il suo modo di vivere e di affrontare il benessere. Ed essendo il nostro benessere non punitivo in nessun modo, ma anzi, essendo una idea proprio di modo di vivere, noi concediamo anche, cioè se nella stagione del freddo ci si può concedere il lusso di mangiare qualche dolce, così noi lo diciamo, cioè siamo sereni nei confronti, ogni stagione ha la sua forma di benessere. In questo momento, per esempio, nella stagione estiva, noi puntiamo molto sull'alimentazione fresca e leggera, ma perché è l'alimentazione di stagione e quindi è quella che fa stare bene ed è uno dei nostri punti forti, così come anche adesso il fitness all'aria aperta, cioè il fatto di correre e di recuperare il rapporto con la natura perché la stagione lo permette e d'inverno parleremo d'altro.